Luciano Bianciardi, nato a Grosseto il 14 dicembre 1922 e morto appena 49enne a Milano il 14 novembre del 1971 è il grande irregolare del novecento letterario italiano. Dimenticato per troppo tempo e snobbato da certa critica è stato riscoperto poco meno di 30 anni fa grazie alla biografia di Pino Corrias, vita agra di un anarchico. Proprio il romanzo La vita agra è tra le opere più importanti di Bianciardi che è nato e cresciuto nella sua Toscana dove si diploma al liceo classico di Grosseto per poi frequentare la normale di Pisa, insegna inglese, storia e filosofia per poi diventare direttore della biblioteca cheliana di Grosseto inventandosi tra altre cose il Bibliobus, un furgone che porta libri nelle campagne, lì dove manca qualsiasi forma di iniziativa culturale. Inizia intanto a collaborare con alcune testate tra cui il mondo e il contemporaneo. Proprio grazie al Bibliobus entra in contatto nel borgo di Ribolla con la realtà dei minatori locali, una vita durissima di povertà e sfruttamento degli ultimi che lo spinge a scrivere con l'amico Carlo Cassola un'inchiesta per il quotidiano del Partito Socialista Lavanti intitolata i minatori della Maremma e successivamente pubblicata sotto forma di volume. Quando nel 1954 uno dei pozzi della zona mineraria esplode, uccidendo 43 lavoratori, Bianciardi ne resta sconvorto. Si tratta per lui di una vera e propria cesura con quella prima parte della sua esistenza. Poco dopo accetta dunque l'invito di Gian Giacomo Feltrinelli che lo vuole al suo fianco a Milano per dare vita a una nuova casa editrice e così nel 1955 Bianciardi sbarca nel capoluogo Lombardo dove traduce per Feltrinelli il flagello della svastica di Lord Russell e poi Tropico del cancro e Tropico del capricorno di Henry Miller ma anche in seguito opere di altri mostri sacri della narrativa americana da lui tanto amata come Jack London, William Faulkner e John Steinbeck. E' questo l'inizio del suo lavoro di traduttore, sua principale fonte di reddito per il resto della sua esistenza. Parafrasando un celebre racconto di Hemingway tuttavia breve è la vita felice di Bianciardi presso la casa editrice che ha aperto la sua sede in Via Andegari a pochi passi dalla scala. Nel 1956 infatti Bianciardi viene licenziato per scarso rendimento cosa che tuttavia non pregiudica del tutto i suoi rapporti con l'editore con il quale nel 1957 pubblica Il lavoro culturale, romanzo autobiografico scritto a partire dalla sua esperienza di fondatore di cine club e circoli culturali nella provincia italiana del primo dopoguerra, lì dove ogni entusiasmo di chi è deciso a cambiare lo status quo è destinato fatalmente a scontrarsi con il prevalere di una mentalità piccolo borghese intimamente reazionaria. Ora io vorrei leggervi un passo dal lavoro culturale perché secondo me è sempre importante sentire la voce dell'autore attraverso ciò che ha scritto. Leggo dunque dal capitolo 6 per comodità di chi voglia fruttuosamente dedicarsi al lavoro culturale sarà opportuno raccogliere a questo punto tutta una serie di indicazioni circa il problema del linguaggio. C'è infatti un lessico, una grammatica, una sintassi e una mimica che il responsabile del lavoro culturale non può ignorare. Cominciamo subito perciò con il nocciolo della questione, con il termine problema. Nonostante la differenza spaziale, alto, basso, dei due verbi, il problema si pone o si solleva indifferentemente. Ma c'è una sumatura di significato perché porsi è oggettivo, cioè sta a dire che il problema è venuto fuori da sé, mentre sollevare è attivo. Il problema in questo caso non ci sarebbe stato se non fosse intervenuto qualcuno a farlo essere. Quasi sempre il problema, posto o sollevato che sia, è nuovo e si dà gran merito a chi, accanto agli antichi non risolti, sollevi problemi nuovi e interessanti o meglio ancora di estremo interesse, purché siano ovviamente concreti. Sul problema si apre un dibattito. Il dibattito è ogni discorso scritto o parlato intorno a un certo argomento, cioè un certo problema in cui intervengono due o più persone. Il dibattito oltre che concreto, e più spesso che concreto, è ampio e profondo, anzi approfondito. E quasi sempre si propone un'analisi, approfondita anch'essa, della situazione. La giustezza della nostra analisi sarà poi confermata invariabilmente dagli avvenimenti. La situazione è sempre nuova e creatasi. Da sé parrebbe, con o dopo. Al dibattito gli interventi portano un utile contributo. Esso può assumere anche la forma di convegno. In questo caso è parlato. Gli interventi sono numerosi e gli intervenuti sono giunti da ogni parte d'Italia. Dal dibattito scaturiscono, oppure emergono, o anche più semplicemente escono, alcune indicazioni. Le indicazioni sono anch'esse utili. Se possono esprimersi in una breve frase, allora si chiamano parole d'ordine. Per esempio, per un, per una, cinema, teatro, romanzo, arte, cultura, scuola, pittura, scultura, architettura, poesia, nazionale e popolare. In caso contrario, quando c'è le indicazioni non abbiano questo potere di contrazione espressiva, si parlerà di tutta una serie di iniziative utili, naturalmente, e concrete, ma di massima, suscettibili, cioè di elaborazione. Concreto, come si è visto, è il problema, il dibattito, l'intervento e l'indicazione. A memoria d'uomo non si è mai saputo di un problema, dibattito, eccetera, che si sia potuto definire astratto. Come non si è mai saputo di un problema risolto, si è mai superato dalla situazione creatasi con o dopo. A volte poi si è scoperto che il problema, pur essendo concreto, non esisteva. In casi simili basta affermare che il problema è un altro. La scelta dei problemi si chiama problematica, quella dei temi tematica. Ricordo che una volta, a Firenze, discussero tre ore su questo problema concreto, se fosse necessario porsi prima il problema della problematica oppure quello della tematica. Un problema è anche spesso di fondo. Esso si adeguerà alle prospettive nuove e concrete di lotta per o contro. Accanto al problema, ma un po' più sotto, c'è l'esigenza. L'esigenza si sente, anzi, si è sentita. A volte esorge, o meglio, esorta, e in ambedue i casi occorre andarle incontro. Problema ed esigenza riguardano a volte i rapporti con, con gli intellettuali, per esempio. Gli intellettuali possono incontrarsi da soli o accompagnati a operai e contadini. In questo secondo caso la successione di rigore è la seguente. Operai, contadini e intellettuali. Gli intellettuali possono essere illuminati, democratici, avanzati, molto vicini a noi, al servizio della classe operaia. La serie è increscendo. Pseudo-intellettuali sono invece gli altri, quelli che si sono posti al servizio del padronato, della reazione, del grande capitale, dell'imperialismo. Ecco, io credo che da questo passo del lavoro culturale ci si possa rendere agevolmente conto della grande capacità di Bianciardi nell'uso dell'ironia, l'ironia nei confronti di un mondo, quello dell'industria culturale, quello appunto degli intellettuali, dell'accademia, delle case editrici, a cui Bianciardi ha guardato dalla provincia da cui proviene con grande innocenza, con una sorta di fascinazione romantica destinata poi a lui a scontrarsi contro il treno in corsa della realtà. Due anni dopo la pubblicazione del lavoro culturale presso Feltinelli è il 1959, Bianciardi pubblica però con buon piani l'Integrazione, altra opera prettamente autobiografica in cui lo scrittore toscano trapiantato a Milano racconta con grande ironia e pari amarezza le contraddizioni del mondo editoriale e le frustrazioni di un giovane redattore arrivato nella grande città della provincia portando appunto con sé grandi speranze destinate a rivelarsi purtroppo cocenti delusioni. È questo il preludio a quello che diventa per Bianciardi il più grande successo. Nel 1962 l'anno in cui Dino Risi esce nelle sale cinematografiche italiane con il film Il Sorpasso, pellicola che a sua volta racconta la trasformazione del paese da agricolo a industriale e a consumista, esce infatti La vita agra, un romanzo che guarda con rabbia a quel grande inganno collettivo che agli occhi di Bianciardi è il miracolo economico, il boom. In questo libro Bianciardi si immagina un anarchico che voglia far saltare in aria il palazzo della Montecatini. Sono queste pagine premonitrici rispetto a quello che accadrà di lì a pochissimi anni, quando l'illusione collettiva rappresentata dal boom verrà seppellita dall'autunno caldo, dalla strage di Piazza Fontana e dalla morte dell'anarchico Pinelli, precipitato per un aperte virgolette maloreattivo, chiuse virgolette, dalla finestra della questura di Milano, da cui poi la strategia della tensione e i cosiddetti anni di piombo. Ora io vi leggerei un altro brano, questa volta proprio da La vita agra, un brano in cui Bianciardi ci racconta proprio la Milano del boom. Scrive Bianciardi. Io potrei dire senza calendario che giorno è, proprio dal traffico. Rabbiosi sempre. Il lunedì la loro ira è alacre e scattante, stanca e inviperita il sabato. La domenica non li vedi, li senti però, dentro le case, indaffarati coi rubinetti, le vasche da bagno, gli shampoo, i bidet, a sciacquarsi sopra e sotto, specialmente le donne, a rifarsi la testa, le labbra e gli occhi. Poi, dopo la messa, rieccoli in branco, stimolati dal digiuno, accecati dalla santità della cerimonia, drogati dalla prospettiva del relax, che si avventano al bar per la pastarella, aperitivo, e se hai con te un bambino te lo pestano, te lo fanno piangere. Dal bar vanno all'edicola e comprano anche tre, quattro giornali illustrati, spingendoti di lato coi gomiti, perché, alla mezza, devono andare in tavola e hanno premura. Il traffico astioso delle auto la domenica comincia nel primo pomeriggio, perché vanno sempre in branco alla partita. Gli altri giorni sono pericolosi e chi ha un bambino fa bene a mettergli in testa la paura del traffico e dirgli attento Nini, la macchina ti schiaccia, dai la mano a mammina, come se fossero lupi le automobili. Ma anche i grandi devono stare attenti, se sono pedoni senza la mutua, perché se finisci sotto sei fregato. Se finisci sotto fuori delle strisce, loro non hanno da pagarti una lira, anzi sei tu che gli paghi il danno eventuale. Il vetro del finestrino rotto, lo sporco del sangue sui sedili, un'ammaccatura al cofano, l'incomodo, il tempo perso, perché loro hanno sì l'obbligo di non omettere il soccorso, ma poi te lo fanno scontare, tanta benzina dal punto del sinistro all'ospedale, tanto dall'ospedale al posto dove avevano la commissione, un appuntamento mancato, un affare andato a monte per colpa tua. Loro hanno gli avvocatoni e tu sei solo. La paghi anche se finisci sotto al passaggio zebrato, perché nell'urto è quasi sicuro che tu vai a cadere più in là delle strisce e loro possono sempre dire e dimostrare con gli avvocatoni delle assicurazioni che è stato fuori l'investimento. Conviene traversare sulle strisce, ma tenendoti al margine più vicino alla parte da dove arriva il traffico. Così sei un poco più sicuro di cadere nel passaggio e i danni te li pagano, anche se penalmente non gli costa più di un quattro mesi con la condizionale. E al bimbo, se ce l'hai, mettigli bene in testa la favola del lupo automobile, anche a costo di far diventare lupo lui, che desideri la macchina per schiacciare gli altri da grande. Gli dannoia il sole, gli dannoia la pioggia, gli dannoia il vento e se potessero, se comandassero in tutto e per tutto loro, non ci sarebbe nemmeno più il clima, le stagioni, il tempo, ma soltanto una cupola grigia e fuliginosa sopra la città. E perché sia così, costantemente operano. La chiamano nebbia, se la coccolano, te la mostrano, se ne gloriano come di un prodotto locale. E il prodotto locale è solo non è nebbia. No, la nebbia è semmai nelle campagne. Viene su dalle rogge fumiganti che vanno ad allagare le marcite, sì da consentire anche dieci tagli di fieno l'anno. E infatti odore di stalla, questa nebbia che trovi fuori città. Ma dentro non è nebbia. È semmai una fumigazione rabbiosa, una flatulenza di uomini, di motori, di camini, è sudore, è puzzo di piedi, polverone sollevato dal taccheggiare delle segretarie, delle puttane, dei rappresentanti, dei grafici, dell'esteno d'attilo, è fiato di denti guasti, di stomachi ulcerati, di budelle intasate, di sfinteri estitici, effettore di ascelle deodorate, di sorche sfitte, di biscari disoccupati. Succede a volte che in città arrivi il vento, un vento senza odore e senza nome, perché nessuno si dà la pena di fiutarlo e di chiamarlo in qualche modo. Arriva non sai da dove, anzi da ogni parte. Ti ripesca tutti i cantoni, non ti dà agio di appoventarti. Arriva e spazza via la cupola fuliginosa e per qualche ora ti sembra di esserti messo gli occhiali. Il disegno delle case si fa netto, i lumi a sera brillanti, vedi persino le stelle e il monte rosa dal terrazzino. Due, tre volte l'anno vedi il cielo longobardo, così bello quando è bello, ma subito ricominciano ad attaccheggiare gli attivisti, a rifare fumi, flatulenze, fetori, polveroni, esalazioni. E in un paio di giorni al massimo la cupola fuliginosa è ben ricomposta e gli attivisti ci respirano dentro soddisfatti, perché hanno ritrovato l'alienatia senza sole, senza vento e senza pioggia. Ecco, appassionato tra le altre cose di vicende garibaltine, Bianciardi pubblica in realtà altri romanzi risorgimentali. Vedi da quarto a Torino, breve storia della spedizione dei mille, uscito nel 1960, o La battaglia soda, edito nel 1964. Ma paga caro il successo di La vita agra, diventato anche un film per la regia di Carlo Rizzani con Ugo Tognazzi nel ruolo di protagonista. La promozione del libro lo sfianca, lo prostra, da quello scrittore con la fama di conoscitore della vita notturna di Brera, intervistato per questo dalla tv, arrabbiato e ribelle ma baciato da un'improvvisa celebrità, tutti si aspettano qualcosa di simile a una performance. È come se ogni volta che sale su un palco o mette piedi in una libreria, Bianciardi dovesse interpretare il personaggio che gli è stato cucito addosso e che tutti si aspettano da lui. La cosa non fa per lui, non è una scemmia ammaestrata. Preferisce dunque tornare a fare il traduttore e ritirarsi a Sant'Anna di Rapallo, in Liguria, in provincia di Genova, non dopo aver rifiutato una proposta di collaborazione da parte del Corriere della Sera. Per la Pagnotta, Bianciardi accetta di scrivere per il giorno ma anche per testate come Playman, Il Guerin Sportivo o Le Ore. Nel 1969 pubblica con Rizzoli Aprire il Fuoco, opera con cui conclude la tetralogia autobiografica e l'operazione di critica corrosiva del mondo intellettuale italiano. Lavora poi a un romanzo su Garibaldi ma non fa in tempo a vederlo pubblicato. Quando torna a Milano nel 1970 la sua dipendenza dall'alcol è ormai irreversibile e l'anno dopo muore. Io credo che rileggere Bianciardi oggi significhi riscoprire certo la sua ironia, la sua rabbia ma innanzitutto la sua preveggenza. L'ex fondatore di Cine Club di provincia, l'ex redattore di una delle principali case editrici italiane, vede nascere con i suoi occhi tra consumismo, omologazione e speculazione non solo edilizia il famoso miracolo economico e non ci crede. Non ci crede perché vede nel conformismo, nell'arvismo e nell'avidità i germi di quel futuro che per noi corrisponde non solo a un recente passato ma a ben vedere anche al nostro stesso presente. La sua passione per gli ideali risorgimentali, il suo romanticismo così inattuali non sono fatti per la mercificazione delle esistenze che prende forma dei primi decenni del secondo dopoguerra. Quanto al circo dell'industria culturale che antepone l'autore personaggio all'effettivo valore dell'opera e obbliga lo scrittore di turno a promuovere il suo romanzo come una sorta di commesso viaggiatore è davvero un mondo a cui Bianciardi sente di non appartenere. Così la sua rabbia alimentata dalla febbre dei consumi, dalla sete di guadagno, dalla cementificazione della terra e dai ritmi fordisti di fabbriche che plasmano l'acciaio ma anche la psiche dei lavoratori diventa fatalmente autodistruzione e tuttavia se il Moloch capitalista ha la meglio sull'uomo non riesce a scalfirne l'opera. Ecco perché è importante ripercorrere oggi la vicenda letteraria e umana di Luciano Bianciardi. Chissà che cosa scriverebbe lui dei rider che ci consegnano il cibo mentre guardiamo serie tv americane e oltre a essere pagati pochi euro non hanno più alcuna garanzia dal punto di vista pensionistico o della salute e chissà che cosa scriverebbe dello stato attuale dell'industria culturale oggi tra le principali risorse economiche del paese all'interno della quale tuttavia vigia un precariato che non ha nulla da invidiare a quello dei call center in cui larga parte del lavoro culturale o se preferite redazionale di traduzione e dell'ufficio stampa è stato come usa dire oggi esternalizzato una parola orrenda su cui certo Bianciardi saprebbe esercitare la sua ironia. Buon per lui dunque che non abbia visto coi suoi occhi la deriva attuale non solo quella dei diritti dei lavoratori ma anche ecologica col pianeta che a forza di auto e frigoriferi e colate di cemento ci sta facendo capire senza tanti giri di parole che la specie umana non è più la benvenuta all'interno dell'ecosistema che sta distruggendo. Se di fatto che le pagine di Bianciardi si sarebbero dovute prendere molto più sul serio all'epoca in cui vennero pubblicate e tocca a noi rimediare almeno in questo rileggendole e conciò facendole vivere ancora e ancora e dunque ridando vita alla voce di questo grande irregolare del novecento letterario italiano. Vi ringrazio e vi invito dunque a leggere o rileggere le opere di Luciano Bianciardi. Grazie a tutti.